quest'anno al quinto mercato della terra e della biodiversità abbiamo voluto introdurre il tema della via del sale queste antiche vie percorse dai commercianti che facevano giungere i prodotti del mare fino qui da noi in piemonte la tradizione piemontese è ricca di tutta una cultura culinaria che riprende l'utilizzo di prodotti del mare come le acciughe si pensi solo alle acciughe al verde o alla bagna cauda quest'anno per poter toccare meglio questo tema abbiamo invitato un'associazione di produttori che si chiama la strada del sale che da cinque anni a volpedo fanno un mercato il sabato mattina con dei produttori e porta avanti il questo mercato che cercano di andare a recuperare tutti quei prodotti tutti quei sapori legati appunto a questa tradizione culinaria al mercato di quest'anno ospiteremo dunque i produttori dell'associazione della strada del sale dell'antico mercato di volpedo che ci tirano compagnia sia il sabato che la domenica questi produttori saranno anche accompagnati da un duo musicale andrea ferraresi e iuri dominichella che riproporrà musiche tradizionali legate a questi antichi percorsi e ci sarà con loro anche il dottor gnoli che presenterà un ebook dal titolo coi nostri strumenti un ebook che va a raccontare proprio di questo legame tra la cultura musicale e la cultura gastronomica legata a questi antichi percorsi vi aspettiamo l'undici e il dodici maggio al quinto mercato della terra della biodiversità indigena autotoni in via di espansione grazie a tutti grazie a tutti